Ciao a tutti ragazzi, sono Ed Bene, benvenuti in questo nuovissimo video dei Survival Games Scusate se ho iniziato in ritardo la partita Ma sono dovuto correre al bagno perché non me ne ero accorto che la lobby stava per finire Questa è una partita un po' meno affollata Perché non c'erano abbastanza giocatori E succede anche questo nel grandissimo mondo delle SG Mentre nei server di IFMC è un sogno se c'è qualche partita non affollata Qua è meglio che la partita sia affollata Ok, ho trovato subito una spada di pietra così ci togliamo subito il dubbio del cazzo spada o ascia Che poi non è un dubbio perché io so risolverlo però semplicemente non si sa mai quale usare Ok, prendiamo quest'altra spada di pietra così evitiamo che qualcuno si equipaggi meglio di noi Si equipaggi bene insomma Apro la, chiudo la porta per far capire agli altri Per non far capire agli altri che è già stata aperta Perché se gli altri Oggi devo parlare meglio Se gli altri la vedono aperta la porta Dicono C'è già stato qualcuno quindi non ne vale la pena di controllare se ci sono ceste E quindi non entrano Invece così la vedono chiusa E dicono Probabilmente non c'è stato nessuno Per cui potrebbero ancora esserci ceste O piene insomma Perché se invece è già aperta Molto probabilmente le ceste saranno già vuote Oppure non ci sono proprio Ok, devo riorganizzare un secondo meglio il mio inventario Uh Mi piasa Mi piasa per davvero Magari un po' di armatura in più Non farebbe male Però Devo veramente buttare la roba che non mi serve Allora La spada di pietra non la butto Bene L'ho già buttata quindi la butto lo stesso No, la barca poteva essere Vabbè chi se ne frega Dai buttiamo tutto Bene Allora, mangiamo Così è che dà due cuori Due cookie Perché Oh, là c'è una cesta Perché uno Un cookie dà Una Un cosciotto Probabilmente qua non ci verrà mai nessuno Cioè è difficile che ci venga nessuno Prima dei Che ci venga qualcuno Prima dei cinque minuti Ho notato che Fraps Registra Io uso Fraps per registrare Registra Con meno volume I suoni Del gioco Rispetto a quanto Io li sento Cioè io sento per esempio Per esempio Mi sono accorto Rivedendo un mio video di ieri Dove in sostanza Uh bello Un arco Dove in sostanza Io mi ricordo Mi ricordo bene Che nella partita Dicevo Ti ho sentito Perché in sostanza Avevo sentito un tizio Che apriva una cesta Una cesta Si E Però Rivedendomi il video Ho sentito Che Non si sentiva Che Che si apriva la cesta Mentre io mi ricordo benissimo Che si era sentito Cioè che io L'avevo sentito Quindi molto probabilmente Ci sarà Qualche impostazione Che in sostanza Eh Registra A meno volume Quello che io sento A più volume Cioè Si è un po' un casino dirlo Però Ecco Per esempio Ora io qua non ci entro Perché La vedo aperta E so sicuramente Che qualcuno ci è entrato Ho Aperto un po' di cesta oggi Però non ho avuto La fortuna Sperata Perché guardate che Sfiga Eh qua L'hanno già aperta Sicuramente Se cesta Mmm Non l'hanno aperta Che scarsi Però non ci offre No Sto trovando Delle equipaggiamenti Molto di merda Perché Cioè Ho la spada Fin da subito Praticamente Però Non ho nessuno Non ho un'armatura Ok qua Dovrei esserci Già andato Una volta Perché mi ricordo Di averla giocata Stamap Però posso farmi Le frecce Scusate Un secondo Ma io torno Un secondo Allo spawn Eh no Oh cazzo Stronzo Di Di merda Merda Un jump Eh vaffanculo Ma Mi ha fatto M'ha fatto Prendere un Jumpscare Della madonna Proprio Uh vediamo Questi che si Combattono Ast Vabbè Poi ne registrano Comunque Anche un altro Di survival games Scusate Vabbè Chi se ne fotte Cioè Eh però Io voglio Vederli Tanto io Sfrutterei un po' Quest'occasione Per Farmi un po' Un giro Ah qua c'è tipo La funivia Vabbè Eh Il Cosa qua Qua sono In team Ovviamente Sono in team Guarda Vi segno Anche una cosa Bounty E le vani Le vani 30 Ah Cosa Ah E le vani Con la Madonna Confirm Bounty In questo modo In questo modo Chi uccide E le vani Ottiene 30 punti Io lo faccio Perché Mi piace Quasi Non so perché Perché vi spiego Io lo faccio Sui team Tipo Perché Cioè Chi Chi sta in team Deve morire Quindi Questo qua Muore Ed è giusto Che una persona Che si Che in sostanza Uccide Uno dei due Abbia Il merito Di aver ucciso Un team E di averlo Stroncato Signori E vabbè Vi ho insegnato Anche questa cosa Del set Bounty Che sfigato Ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti